Un qualcosa per migliorare questa situazione perché non è sicuro così Adesso il livello è estremo, aerodinamica, è tutto spostato al limite Dalla prima all'ultima moto tutti possono vincere Oggi per dire Augusto Fernandez è la quarta Secondo me bisognerebbe tornare ad avere un po' di gap tra le moto ufficiale e le moto clienti O comunque trovare una soluzione per evitare certe cose Ok Il primo argomento è la moto 2 Ha vinto Arbolino che è stato bravissimo Ha fatto veramente una gara matura ed è andato molto forte Anche Sara ci è andato forte Bravo anche Alonso Lopez Bella gara In classifica generale Scusate dicevo In classifica generale Ce la faccio Ce la faccio Ma guardiamo le cose importanti La sicurezza Ah una caduta abbastanza brutta Chissà cosa sarà successo E chissà quanto tempo servirà ai Marshall per pulire tutto Beh in ogni caso possiamo stare tranquilli perché abbiamo un team di 180 persone con 1800 telecamere e comunicazioni radio anche dentro i calzini pagati espressamente per guardare la gara dalle mille inquadrature e interromperla se necessario Vabbè comunque il lavoro che devono svolgere in quel caso è il seguente concentratevi perché è difficilissimo Le moto 2 ci mettono un minuto e 35 secondi a fare il giro di Le Mans La race direction ha un minuto e 25 to per prendere una decisione Wow conti che servono le calcolatrici della NASA per farli La situazione era questa E quindi la domanda per il capo dei bottoni è Do la bandiera rossa o non la do Chiunque avrebbe già il dito sul pulsante perché dici Piloti a terra Pezzi dappertutto Il gruppo è ancora compattissimo perché siamo al secondo giro Quindi una gialla sarebbe comunque troppo rischiosa Dici appena il leader entra nella prima chicane Due curve prima Do la bandiera rossa Ecco questo è l'onboard dalla moto Prima del ponte Dallop c'è ancora la gialla Passano per l'incidente a cannone E poi arriva la rossa Con Canet e i medici ancora nella via di fuga E quindi per l'ennesima volta 10 secondi di ritardo Con un minuto e 25 a disposizione Boh ditemi come si fa Scioccante E sapete che altro c'è di scioccante? La velocità stratosferica di NordVPN Lo sponsor di questo video NordVPN è una rete virtuale privata Detto per i nerd Detta per tutti gli altri Una app App che protegge la connessione internet Di tutti i vostri dispositivi E la vostra privacy online Come fa a fare questo? Creando di fatto un tunnel Crittografato tra voi e l'internet Vi faccio un esempio pratico del perché vi serve Reti wifi pubbliche Le usiamo spesso tutti perché fanno comodo Però che sia il wifi di un hotel o di un negozio Un wifi pubblico di base non è affatto sicuro Ecco con NordVPN Create un gigantesco strato aggiuntivo di protezione Intorno a tutto quello che farete online Che è indispensabile specialmente Quando usate una connessione poco sicura Oltre a tutto questo con NordVPN ovviamente raggirate anche i blocchi geografici Che ormai sono dappertutto E quindi per esempio se vi connettete ad un server svizzero Guardate la Formula 1 in chiaro sulla tv svizzera Basta un click In descrizione trovate il link Questo qui Per ottenere il piano biennale di NordVPN Con uno sconto esclusivo più 4 mesi gratis E ricordatevi che avete sempre 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati NordVPN.com slash Talking Helmet Cliccateci Grazie Nord Ragazzi non è che non faccio più lo sciopero contro le gare sprint Perché mi sono fatto pagare dalla lobby delle gare sprint Se era semplicemente fatta una scelta e basta Comunque c'è una valanga di roba da discutere Prima di partire vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale Che cazzo me ne frega a me Ora la prima cosa velocemente è bezzecchi Velocemente non perché non sia importante Ma perché quando uno fa una gara del genere Che cosa gli volete dire? Non è andato solo forte, si è fatto anche una partita a scacchi Tranquillo tranquillo Due o tre posizioni regalate all'inizio Sì, però di lavoro da fare ce n'era una valanga E l'ha fatto tutto alla grandissima Gara lunga Ha fatto un errore con Marquez Frenando tardi Sono andati larghissimi tutti e due E lui poi ha dichiarato Dice Ero lì, ho pensato sicuramente Mi fanno restituire una posizione nel giro di poco Supero Martin al volo Così quando mi obbligano a perdere una posizione La perdo nei confronti di Martin e non Marquez Perché sicuramente Marquez è una carenata a me la ridà Cioè capite? Calmo, concentrato, liscio Uno spettacolo Sulla penalità in sé Allora in situazioni simili direi che A patto che ci sia discrezionalità E abbiamo sempre paura visti i soggetti Poteva starci Almeno in questo caso era proporzionata all'errore Quindi non grido allo scandalo Comunque Bezzecchi fortissimo Bellissimo Grande Ho nominato Marquez Parlo anche di lui 30 secondi Perché ha fatto veramente i numeri ragazzi Dal venerdì mattina fino alla caduta di domenica Ogni volta che era inquadrato Lui stava tirando il collo alla moto Ogni secondo Ogni attimo Una lotta di sottomissione continua E nel frattempo che lottava È andato diretto in Q2 Poi a momenti fa un'altra poll in qualifica Poi coprotagonista insieme a Francesco Nel film della garetta pomeridiana E la domenica 25 giri a canna Fino a che la moto non ha detto basta È stato uno spettacolo assoluto per tre giorni interi Non ho parole Poi è chiaro che adesso arriva uno col dito nel naso E dice Ma perché di Cigarone si è accaduto? Ma perché guardatelo ragazzi? Se uno sa apprezzare un minimo il gesto atletico in sé Slegato dai risultati Capisce che Marquez sulla moto al momento È una roba borderline erotica tipo Perché poi non è solo una questione di saperlo fare C'è anche lo scalino dell'avere le palle Di farlo in continuazione nelle sue condizioni L'ho detto mille volte e lo ripeto Vale il prezzo del biglietto da solo Ah sulla sua caduta Ha perso il davanti alla Cos'era? La 7 credo Però la frittata è iniziata prima Ha iniziato il processo di stendersi da questa cosa qui E poi chiaro è arrivato leggermente lungo a frenare Ha girato lo stesso eccetera eccetera E per terra Suo fratello Tre posizioni di penalità Ingriglia la sua prossima gara Per l'entrata alla Come va va Al primo giro E anche questa mi sembra adeguata Perché dico erano tutti in gruppo Lui si è buttato dentro come se niente fosse E c'erano gli estremi per fare uno strike Quindi anche questa ci sta Ho menzionato Binder e quindi finisco Gara compromessa prima Dall'ingresso di Alex Marquez all'inizio E poi dalla decisione dei ragazzi giù in cantina Che gli hanno fatto fare un long lap Tanto per Cioè in realtà una regola esiste E i ragazzi in cantina l'hanno applicata bene Il problema è che la regola fa parte di quel gruppo di regole Definite da me Da gioco dell'oca E quindi ogni volta che la applicano Fanno ridere La storia è che Binder nel superare Miller È andato leggermente lungo E ha tagliato la 9 È una chicane sinistra-destra Lui ha tagliato la prima Bene, si è rialzato Ha fatto ripassare Miller E si è accodato Non solo restituendo la posizione Ma perdendo anche effettivamente del tempo Era palese Il problema è che la regola dei ragazzi in cantina Non prevede buonsenso O eccezioni basate sulla realtà dei singoli casi Quindi i ragazzi in cantina Guardano dov'è la curva tagliata In questo caso la 9 Alle Mann è il terzo settore Prendono tutti i tempi di Binder al terzo settore Fino a quel momento E fanno la media Ecco, il pilota in questione Al momento del taglio Deve essere un secondo più lento di quel tempo E Binder è stato solo mezzo secondo più lento del solito Ed ecco perché la penalità Sì, lo so, chiaro Adesso c'è la domanda Come fa un pilota a perdere un secondo così a sentimento? Bella domanda Chiedetela agli stewards Ah no, scusate Non è possibile fargli domande Arrangiatevi Oh, è adesso il momento più atteso da tutti La classifica sprintless Che è la classifica fatta senza contare i punti delle garette Il leader è ancora Bezzecchi E Quartararo non sarebbe neanche messo troppo male Ah, oh, questa è una roba che avevo promesso di fare Poi mi sono rotto i coglioni prima ancora di farla Poi è arrivato InsideF1GP su Instagram E ha detto Te la faccio io Basta che dici a tutti che l'ho fatta io Ecco, e quindi vi sto dicendo che l'ha fatta lui Adesso lo sapete Comunque, fighissimo rivedere il Petrux in MotoGP Però c'è stata una cosa ancora più bella Cioè l'evento stesso Forse ragazzi è il caso di prendere atto del fatto Che i francesi ormai ci danno 10 giri Record di presenze Era pieno già dal giovedì Il promoter Michi, credo si chiami A questo punto forse è il caso di iniziare a chiamarlo Guru Perché è una roba sistematica questa Non è la prima volta e non è a caso Roba culturale evidentemente Non è che la gente sta lì 4 giorni a fare festa Perché esce a zarco in top 5 E quarta raro a tirare le magliette Sanno vendere l'evento E sanno divertirsi Punto E a questo giro c'è stato il bonus del bel tempo E delle bellissime gare Che sono state forse le due migliori fino a qui Direi Adesso arriva il Mugello Che è sempre stato l'evento numero 1 del calendario L'anno scorso però si dormiva che era una meraviglia Non volava una mosca Quest'anno loro dicono che non si dorme Boh, sarà vero? E ora Appare a tirare le magliette Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Vabbè va, arriviamo all'incidente tra Francesco e Maverick alla curva numero 12 di Le Mans. Pronti? Oh, io mica avevo specificato l'anno. Comunque figo, no? Abbastanza incredibile, ma loro due si erano già presi 4 anni fa nello stesso punto. Io questa cosa non la ricordavo, me l'hanno suggerita su Instagram. Non sappiamo con esattezza la dinamica perché non ci sono altre inquadrature, né on board, né elicottero, né niente. C'è solo questa. Yes, I've checked. Questo è uno dei primissimi frames, non sembra troppo differente da quello di domenica, ma vattela pesca. Comunque, di chi è la colpa per l'incidente di domenica? Tutti e due. È un incidente di gara, ovviamente, ma di incidenti di gara ce ne sono due tipi. Quelli dove nessuno ha colpa e quelli dove tutti hanno colpa. L'incidente tra Marini e Alex Marquez è colpa di nessuno, perché nessuno dei due avrebbe potuto fare diversamente. Quindi abbiamo due piloti, entrambi vittime delle circostanze. Nel caso di Francesco e Maverick, invece, uno qualsiasi dei due avrebbe potuto fare qualcosa per evitarlo. L'incidente. E quindi sono entrambi colpevoli, non entrambi innocenti. Poi, ovviamente, il gioco del post-gara è sempre quello di cercare il pilota con leggermente più responsabilità dell'altro. E molti hanno detto, Francesco, perché era dietro, Maverick aveva il diritto di farla, e qui e là. Io, come al solito, la penso diversa. Ora, voglio bene a tutti e due, quindi non ho un'agenda di nessun tipo, ma sapete che quando si parla di Maverick presto sempre molta attenzione. Quindi, Maverick, domenica, aveva una fretta e un'urgenza di andare davanti incontenibile. Questo perché Le Mans, per lui, aveva l'odore di essere il weekend giusto, quello buono. Al sabato ne aveva effettivamente per fare la pole. Esce, per l'ultimo stint, moto rotta. Frustrazione. Poi, nella sprint, ingolfato nel gruppo insieme ad Aleish, perché entrambi partenze mediocre, colpa anche della moto e non è una scusa. La domenica si è svegliato, incarognito al massimo. Il passo ce l'aveva, perché ha fatto i primi 3-4 giri tirando un po' la moto a destra e sinistra, perché aveva proprio urgenza di andare davanti e non gli sono riuscite tutte bene. Prima ha sbattuto contro Marini. Questa a molti è sfuggita. In un curvone del genere succede, però stiamo parlando di uno dei piloti più puliti e meno combattivi della griglia. Maverick, per arrivare a dare una carrenata a uno, ce ne vuole. Non è roba che fa abitualmente, anzi, non lo fa mai. L'ha fatto domenica perché aveva fretta. Poi, sempre su Marini, ci ha riprovato e ha fatto un sorpasso strepitoso. Però, di nuovo, super aggressivo, super incarognito. E non lo sto dicendo come fosse una colpa, lo sto dicendo appunto per sottolineare l'urgenza che aveva. Poi è arrivato dietro a Francesco, ha fatto un paio di curve e alla prima occasione si è buttato dentro. Praticamente la sua gara è stata una sfuriata di cinque giri ed è finita. Comunque, la dinamica, Maverick si butta dentro, va un pochino profondo, Francesco si rinfila perché in traiettoria ha un'autostrada e poi boom. Francesco aveva più controllo della situazione di Maverick? Non lo so perché l'unica altra soluzione era non infilarsi. E allora, volete chiedere ai piloti di non infilarsi? Io non glielo chiedo. Anzi, li invito a infilarsi sempre e comunque. Dall'altra parte, Maverick invece da leggermente largo che era, ha rischiaffato la moto in traiettoria per fare la seconda come se fosse da solo in pista, pur di non mollare mezzo centimetro. Basta mettere loro due a confronto con Martin e Marquez per avere un'idea del cosa sarebbe successo se. Martin è giustamente rimasto sulla sua linea non ideale e ha rallentato, Maverick invece ha cercato di riguadagnarsi la traiettoria giusta. Ha fatto un sinistra-destra molto marcato al grido di passo prima io. Il fatto di vedere o non vedere l'avversario, ragazzi, non c'entra niente. Perché lo sai che non sei da solo. E quindi ecco, alla fine, 50-50, ma se mi puntate la pistola e devo dirvi chi ha colpa al 51%, vi dico Maverick senza alcun dubbio. E adesso non ho minimamente voglia, ma dobbiamo commentare le parole di Francesco. Io, ragazzi, domenica, quando ho iniziato a vedere i virgolettati in giro su Instagram, dico No Way che ha detto una cosa del genere. Solita roba decontestualizzata, farlocca, non la tocco neanche con la canna da pesca. Video o niente. Oh, passano due giorni e boom, arriva anche quello preciso preciso. E qui, ragazzi, c'è poco da fare. Non è una questione di simpatie o antipatie. Anche con tutto il bene del mondo se ne deve parlare perché sono state dichiarazioni incredibili. Ora, si potrebbe fare l'analisi grammaticale, sillaba per sillaba, frase per frase, di quello che ha detto Francesco, con la mia reazione subito dopo, tipo così, no? Non c'è più quei 6-7 decimi che c'erano prima tra moto ufficiale e motoclienti. I Fantastici 4 sono nati perché erano i più forti in assoluto, ma avevano le moto ufficiali. Ah, i 6-7 decimi di vantaggio che la Yamaha di Valentino aveva nel 2004. No, wait. Ma non lo faremo. Anche perché questi 6-7 decimi di distacco tra le moto factory e le satellite non erano neanche il soggetto del discorso. Il soggetto del discorso era la sicurezza. Parlavano di sicurezza e quindi mi auguro che lui magari aveva questo mezzo concetto sfocato in testa che gli sembrava avere senso. Giornata lunga, acciacchi, frustrazione, inizia ad esporre il concetto con magari un po' di leggerezza e il tutto diventa una merda colossale. Quindi, siccome non penso che Francesco si sia rincoglionito del tutto all'improvviso, in attesa di suoi chiarimenti, la prendo come, ha sparato una cazzata atomica, chiarirà e poi ne riparleremo. No, ma anche perché ha detto tutto quello che ha detto nel giorno della prima vittoria sull'asciutto di Bezzecchi, amico suo, su moto satellite, non ha senso. La cosa interessante a lato della polemica è che Dorna si è buttata dentro a questa storia a capofitto. Ha pubblicato il video in prima pagina e poi l'ha spiattellato su tutti i social con annessa risposta scazzata di Ponciaral che dice bullshit. Cioè hanno preso il campione del mondo e l'hanno buttato dentro la centrifuga senza il minimo ritegno. E io a questo giro non critico Dorna, anzi la ringrazio perché insabbiare questa storia sarebbe stato ancora peggio. Oh ragazzi, volete vedere Maverick e Francesco in sella a una Honda?